Ho scoperto qualcosa di incredibile con quel calice. A Parigi ho trovato una chiesa dove hanno riconosciuto lo stemma. Ho trovato la tomba di Don Carlos de Vasconcellos. È sicuro? Non può essersi sbagliato? Lo stemma sul calice corrisponde a quello sulla tomba. Incredibile. Non so come ringraziarla. Devo andare là il più presto possibile. Sì, sarei felice di mostrarle la città. Ho scoperto qualcos'altro inciso sulla tomba di Don Carlos. Riferimenti biblici. Quali sono i riferimenti, signor Stobart? Salmi 32, 7, Corinzi. Non sono così brava da riconoscere i capitoli e i versi della Bibbia. Intendo, quali sono i passi citati? Ho dimenticato di chiederlo al prete. C'è ancora il mistero del pezzo degli scacchi mancante. Non credo che verrà mai risolto. A meno che non venga scoperto il destino dei bambini. L'inquisizione fu sospettata di avere preso il calice e i bambini, vero? Ora sappiamo che non ebbero niente a che fare con il primo crimine. E se non avessero nemmeno preso i bambini? Allora che gli successe? L'inquisizione ammise di avere ucciso il servitore di Don Carlos. Questo servitore aveva il compito di proteggere i bambini a ogni costo, vero? Esatto. Credo che nascose i bambini e il calice quando ebbe sentore che l'inquisizione stava arrivando. Con lui morto e Don Carlos impazzito dal dolore, non rimase nessuno che conoscesse il segreto. Sa cosa significa, vero? Credo di sì. I bambini sono ancora qui, da qualche parte. Se fosse così, allora non è sorprendente che i Vasconselos siano maledetti. Faccio un giro intorno, se non le dispiace. Faccia come se fosse a casa sua. Io rimarrò qui. Grazie. 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 No, era un'idea stupida. Decisi di meditare profondamente. Grazie. La candela aveva bruciato ardentemente, ma solo per un paio di minuti. Qualche tipo di composto speciale, credo. Una forma complessa scolpita espertamente nella pietra. Pensai che fosse una specie di chiave. Era la Bibbia spagnola che avevo preso in prestito dal mausoleo. era un pezzo di pietra liscio, intagliato in modo complicato, che era stato nascosto all'interno di una grossa candela. Grazie. 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 Salve. Questa è la Bibbia proveniente dal mausoleo. molto bene iniziamo il primo riferimento salmi 32 7 tu sei il mio nascondiglio proteggimi dal male circondami con canti di liberazione il mio nascondiglio non si faccia prendere dall'entusiasmo questo potrebbe solamente portarci al luogo in cui abbiamo trovato il calice ha ragione naturalmente e adesso ok giovanni 4 11 giovanni 4 11 eccolo il pozzo è profondo il prossimo veloce ok ok corinzi 45 eccolo porteremo alla luce le cosse nascoste nient'altro ancora uno salmi di nuovo 22 21 salvami dalla bocca del leone per te che mi hai sentito dalle corna degli unicorni l'ultima non è molto chiara leoni unicorni cosa significa non riesco a capire i punti salienti sembrano essere un nascondiglio e un pozzo profondo il mausoleo non è certamente un pozzo signor stobart c'è un pozzo nei sotterranei non lo so credo che ce ne dovrebbe essere stato uno una volta lopez è la persona miglior per chiedere qualsiasi cosa sulla tenuta che ne pensa di questo sembra una specie di chiave dove la presa era nascosta all'interno del cero nel mausoleo all'interno cosa ne ha fatto del cero l'ho bruciato ma è insostituibile senta la candela doveva essere accesa in caso di attacco da parte dei mori giusto si è bruciata velocemente e ha portato alla luce questa specie di chiave forse quello era il vero motivo per accendere la candela che cosa intende dire che accendere la candela era l'equivalente di rompere il vetro in caso di emergenza i sentimenti non devono interferire nella risoluzione di questo mistero ha fatto la cosa giusta darò solamente un altro occhiata in giro molto bene ciao lopez hai un minuto certamente signor cosa posso fare per te tu devi sapere praticamente tutto ciò che c'è da sapere su questo posto sì ho trascorso qui tutta la mia vita al servizio dei vasconseios sai se c'è un pozzo nei paraggi un pozzo sì signor questa era una volta una fortezza come puoi sopravvivere a un assedio senza acqua grande allora dov'è come faccio a saperlo il pozzo venne coperto il secolo scorso era pericoloso e non hai nessuna idea di dove si trovasse nessuna venne coperto ancora prima dei tempi di mio nonno devi avere una vaga idea di dove si trovi il pozzo doveva essere nel cortile della vecchia casa per cui significa che si trova più o meno qui qui ok come facciamo a trovarlo ci deve essere un modo fammi pensare ancora nessuna idea stiamo cercando una sorgente di acqua vero sì per generazioni contadini spagnoli avevano un modo segreto para localizzare l'acqua anche se era molti metri dalla superficie o non stai parlando di una bacchetta da rabdomante vero sai di cosa sto parlando ti procuri un bastone va in giro fino a quando il bastone si piega e inizia a scavare o ne hai sentito parlare credo che ne abbia sentito parlare la gran parte del pianeta ok procuriamoci un bastone un momento deve essere un bastone speciale un ramo di nocciolo a forma d'ipsilon c'è qualche nocciolo qui sì qui questo è un nocciolo ci vediamo più tardi lopez adios signor stobart andai a cercare un bastone adatto non ci credo non c'era un singolo ramo a forma d'ipsilon sul dannato albero sembrava proprio un nocciolo andai a cercare un bastone adatto ah ah era un rametto sottile di nocciolo ciao lopez hai un minuto certamente signor cosa posso fare per te ho la mia bacchetta da rabdomante e adesso semplice signor afferra la bacchetta para le punte della y tendile leggermente con i polsi in modo da poter percepire il minimo movimento della punta della bacchetta e cammina lentamente e con passo regolar sulla zona sembra piuttosto facile troveremo il pozzo in un attimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti tu hai... tu hai trovato qualcosa. Ecco, questo è il posto che cela il segreto dei Templari. Nascosto qui per centinaia di anni. Nascosto dalla vista dell'uomo fino adesso. Il mistero è rivelato. È un barattolo di latta. Ho camminato in lungo e in largo con una bacchetta da rabdomante in mano per trovare un barattolo di latta. Contiene dell'acqua. È quella che la bacchetta da rabdomante deve aver localizzato. Dovrei consultare un archeologo, ma non credo che i Templari abbiano lasciato quello. Veramente, signor Stobart. L'erba venne posata molti molti anni fa. Questo potrebbe risalire alle guerre napoleoniche. Buttalo via e riproverò. Lopes gettò il barattolo. Sembrava che avesse fatto una lunga caduta. Il tonfo finale confermò quello che entrambi sospettavamo. Beh, sarà una grossa sorpresa. È stato qui per tutto questo tempo, tutti quegli anni e nessuno l'ha trovato. Rimanemmo in soggezione per un momento, meravigliati di tutti i segreti che ci circondavano. Sarei potuto cadere giù per il buco?